Nostra a sinistra, al centro della porta c'è Falcone, ecco la rincorsa di Arnautovic, il tiro e il gol, vantaggio del rosso-blu dopo 13 minuti di gioco, Bologna 1-0 dal discreto, il destro precisissimo di Arnautovic, portiere da una parte, palla dall'altra, Falcone superato con un tiro rasoterra, che ha centrato quasi l'angolo basso alla sua destra, Il Bologna ha sbloccato la situazione, entriamo adesso nel quattordicesimo minuto, incisivo e finora decisivo Arnautovic dal dischetto, linea allo studio centrale, direzione di Ferguson che di testa supera per la seconda volta Falcone, Bologna 2-0, tutto questo al trentaquattresimo minuto, battuto benissimo il calcio d'angolo da Baron sul primo palo, ha chiuso di testa Ferguson che non ha lasciato scampo da quella posizione al tentativo di parata di Falcone, Il raddoppio della formazione rosso-blu, Bologna 2-0, ha segnato Ferguson, linea nuovamente gli studi di Roma Orsolini si allunga il pallone sul servizio di Arnautovic che lo ha difeso come meglio non avrebbe potuto, adesso rovina un po' tutto andando a fare un face to face nei confronti di Baschirotto, l'arbitro non si avvicina per scelta in combe con tanto di cartellino giallo già estratto, francamente evitabile questa scena Nel momento in cui comunque riteniamo che Arnautovic se la sia presa soprattutto con se stesso perché c'era la possibilità anche di battere a rete direttamente con il Bologna Intanto per reciproche scorrettezze sono ammoniti proprio Baschirotto e lo stesso Arnautovic che ha un po' sporcato nel finale la sua prestazione con poco altruismo dicevamo nel momento del mancato passaggio A Orsolini che era piazzato meglio di lui in questa circostanza appunto è andato a cercare di farsi giustizia da solo dopo che l'arbitro non aveva accordato alcun intervento falloso come invece voleva l'austriaco Fatto sta che adesso il pallone è giocato da Lecce probabilmente questa l'ultima azione siamo entrati come infatti paventavamo nel sesto di recupero cinquantunesimo adesso che fra l'altro sta per scadere Pezzella prova a giocare di testa tentativo di lancio in profondità arriva prima Sumaro riesce ad allontanare la metà campo avversaria Baschirotto gioca il pallone a terra prova Uden a farsi vedere Uden che nel periodo in cui non eravamo in diretta è andato alla conclusione dal limite parata partita che finisce qui Bologna batte Lecce 2 a 0 linea Pisa